Benvenuti a una nuova trasmissione di Metropolis Qui. Gli ospiti in studio oggi sono Paolo Righi, Presidente nazionale FIAIP e Valerio Angeletti, Presidente nazionale FIMA, quindi i due presidenti degli agenti immobiliari. Sono appena usciti i dati, ahimè, di Nomisma e dell'Agenzia del Territorio che hanno confermato un trend, forse dire negativo è un eufemismo, terribile sulle compravendite immobiliari. Vorrei partire da alcune considerazioni vostre su questo aspetto qui. Paolo, allora. I dati sono sconfortanti sul numero delle compravendite, però faccio notare che non fanno il paio con il calo dei prezzi. Quindi abbiamo una divaricazione netta tra il numero delle compravendite effettuate a cui dovrebbe seguire anche un calo consistente dei prezzi. Naturalmente su questo fattore incide che cosa? Incide il fatto che la maggior parte della proprietà italiana è rappresentata da privati. I privati se non realizzano le somme che intendono realizzare, anche per cambiare, per permutare la propria unità immobiliare, sicuramente non vendono. L'altro fattore è quello degli investitori. Oggi gli investitori sono spaventati dall'IMU presente, patrimoniale presente, e quindi attendono di vedere quali sono gli sviluppi perché c'è il fattore, il secondo fattore. Il secondo fattore è quello per cui la politica continua ogni sera o in ogni trasmissione a paventare una nuova patrimoniale. Naturalmente spaventando il mercato. Il mercato, tutti i mercati hanno bisogno di tranquillità, di chiarezza e di capire qual è il futuro che il governo vuole dare a questo settore. Quindi quello che auspichiamo in questo momento è che la politica dia un indirizzo preciso e allora molto probabilmente con un indirizzo preciso sulla futura tassazione molti investitori riprenderanno ad investire in immobili perché i dati storici ci dicono che su un investimento di medio e lungo periodo, dopo l'oro, l'investimento più vantaggioso per tutelare i risparmi della famiglia italiana è quello dei mercati immobiliari. Valerio, tu hai scritto anche un tuo commento dopo la pubblicazione di questi dati. Ce lo vuoi un po' riassumere? Sì, diciamo che noi avevamo delle aspettative di un anno sicuramente molto difficile ed erano confermate dai dati del primo semestre che ipotizzavano a fine anno un numero di vendite intorno ai 510-520 mila unità residenziali. Questo calo quindi di circa 60-70 mila unità che va a incidere soltanto sul secondo semestre è sicuramente una caduta a picco sulle transazioni. confermo che sicuramente non c'è stato nello stesso modo ma in maniera assolutamente limitata un esame al ribasso dei valori e questo però perché il clima che si è oramai generato, l'attenzione che si è voluta dare nei confronti di tutti coloro che posseggono qualche cosa è sicuramente un clima di demonizzazione. Gli italiani non solo hanno da sempre visto l'investimento immobiliare come una delle principali attenzioni, una delle principali scelte per quanto riguarda i loro investimenti ma lo hanno fatto sia per la valorizzazione che da sempre gli immobili hanno avuto sia anche perché poi di fatto è l'unico elemento, l'unico investimento che ha un aspetto di fruibilità personale quindi risolve un'esigenza familiare che nessun altro tipo di investimento risolve. Quindi questa caduta verticale di questi numeri di vendite a nostro avviso è un elemento che mette in luce la situazione generale del sistema Italia complicando ulteriormente le cose perché se il sistema immobiliare, il comparto immobiliare avesse una sua crisi tutti noi forse avremmo individuato alcune possibilità, alcune scelte, alcuni percorsi da fare per invertire la crisi o rallentarla. Essendo invece così allargato, così diffuso, chiaramente è difficile poter andare a trovare delle soluzioni perché non ci sono altri comparti che possono fare da compensatore della crisi immobiliare. Vorrei farvi la stessa domanda ma divisa in due, cioè analizzare i due segmenti del mercato residenziale, quello del nuovo e quello dell'usato. Paolo, tu dacci una tua prospettiva su come sta andando il mercato del nuovo, poi a te Valerio chiederò invece di farci un'analisi sull'usato. Il mercato del nuovo in questo momento subisce un contracolpo se si vuole ancora maggiore, cioè il mercato aspetta ormai da un anno e mezzo, due anni, un abbassamento dei prezzi che non avviene e spera che ciò avvenga anche nelle nuove costruzioni. I costi di terreni in carico ai costruttori sono quelli di due, tre, quattro, cinque anni fa, quindi molti terreni sono stati acquistati ante crisi del settembre 2008. Nel frattempo il costo del lavoro non è diminuito, le materie prime sono aumentate e nuove leggi, quella del risparmio energetico ed altre hanno causato anche un aggravio di quelle che sono tutte le attività che un costruttore deve fare. Si aggiunga a questo i tempi per avere delle amministrazioni per il rilascio sulle opere complesse o meno, quindi il costo base che oggi un costruttore deve affrontare non è diminuito. E così anche il problema delle banche che difficilmente concedono credito su case da costruire. Abbiamo un impasse molto forte, oggi i fallimenti delle piccole imprese edili o delle medie imprese edili si contano a decine al giorno sul territorio italiano. Quello che noi prevediamo, cerchiamo di spiegare anche ai costruttori che il mercato delle compravendite non è finito, oggi però la necessità è quella di costruire in maniera diversa, di costruire per un segmento medio-alto e prodotti di qualità. Peraltro quello che le aziende a nostro parere devono fare, le aziende edili senza non voler insegnare nulla a nessuno, è concentrarsi sulla riqualificazione urbana. Le case in Italia ci sono, ce ne sono in numero sufficiente, noi abbiamo bisogno di rinverdire, di rinnovare il nostro patrimonio urbano e quindi è lì che i costruttori si devono concentrare. Per i prossimi anni molti chiedono se questo settore avrà delle nuove costruzioni vedrà la luce. Sicuramente questo è dovuto e si vedrà la luce e quindi una possibile ripresa se l'Europa e se il sistema paese riusciranno insieme a trovare la quadra affinché poi l'economia sia finanziata dalla Banca Centrale Europea. Noi oggi scontiamo un problema sostanzialmente di liquidità che coinvolge tutti e quindi speriamo che in Europa si centri quelli che sono gli obiettivi e che si ridia fiato al sistema bancario, al sistema industriale in modo poi da ripartire con però queste nuove indicazioni della riqualificazione urbana. Valerio, Paolo ti ha un po' lanciato la palla quando ha parlato del fatto che i costruttori si devono concentrare sul ristrutturare il vecchio usato. In realtà le nostre città continuano ad avere un patrimonio immobiliare molto vecchio, molto mal mantenuto, poco appetibile e forse le compravendite diminuiscono anche per questa ragione. Condivido l'analisi del mercato delle nostre città che è un mercato vecchio, però abbiamo un elemento che ci doveva far riflettere. All'interno delle città non esistono più le grandi proprietà immobiliarie, ma esistono oramai esclusivamente condomini con la proprietà sminuzzata. Allora per fare una riqualificazione urbana, per fare degli interventi reali, occorre poter intervenire su rioni, su edifici interi, su dei complessi di maggiori dimensioni, se no chiaramente dobbiamo pensare all'intervento del singolo all'interno del proprio appartamento. Ma per far questo le imprese possono essere soltanto imprese medio-piccole che fanno di questi interventi e noi invece oggi vediamo che soprattutto chi boccheggia sono le grandi aziende che poi di conseguenza perché boccheggiano loro fanno boccheggiare anche i subappaltatori o chi gli fornisce attività edilizie. Il mercato dell'usato è sicuramente un mercato che si muove di più perché si può autoregolamentare e quindi è giusto che, diceva Paolo, che se il proprietario di una casa non riesce a realizzare la cifra che gli serve per fare un altro acquisto o ritira l'immobile dal mercato, rinvia quindi l'operazione oppure va e trova un elastico per far sì che anche il nuovo acquisto possa essere proporzionato al prezzo del suo realizzamento. Quindi diciamo che è proprio questa frantumazione della proprietà che da un lato ci lega nei confronti di interventi urbani importanti e di cui le nostre città avrebbero sicuramente bisogno. Parlo soprattutto da Romano, dove non ci sono delle forti aree industriali all'interno della città, è difficile pensare di portare delle novità. Dall'altra parte però è anche quel substrato di proprietari che sono l'82% che fanno la ricchezza del Paese Italia, di cui c'è una grande concentrazione di risparmio accumulato e purtroppo oggi questi soggetti vengono visti come ricchi speculatori e quindi soggetti dove poter affondare con nuove tassazioni, con nuove richieste, mentre la maggior parte di queste persone hanno risparmiato una vita e hanno risolto un problema che per decenni non è stato affrontato allo Stato, quello del mercato dell'allocazione. Prima esistevano i grandi patrimoni, i grandi patrimoni sono stati smembrati, sono stati frazionati e polverizzati e chiaramente chi è subentrato per una piccola porzione all'interno di quei grandi patrimoni poi ha fatto la funzione della grande proprietà, ha messo a reddito l'appartamento che si è comprato, ma non è un ricco, è un risparmiatore. Prima della trasmissione io vi ho buttato lì una domanda, come se ne esce da questa crisi? E ho visto nei vostri volti un sorriso come per dire, caro Guglielmo, se lo sapessimo, non dico non saremmo qui, ma forse non staremmo a discutere di queste cose qui, me ne rendo conto che è una crisi di sistema per cui non è facile né trovare delle soluzioni né dare delle indicazioni, però vogliamo almeno analizzare quali sono i punti critici di questa crisi qui dal punto di vista ovviamente del mercato residenziale. se ne esce, intanto se ne esce, diciamolo chiaramente perché il mondo non finisce e i cicli economici storicamente hanno alti e bassi, quindi diciamo che il mercato immobiliare che ha visto il suo culmine nel 2000-2001 ha avuto un surplus di crescita proprio dato dalle torri gemelle, da quello che è successo, noi purtroppo abbiamo poca memoria, nel 2001 2002 dovevano iniziare i mercati finanziari a tirare, non nel solito cambio e nel gioco che c'era finanza e mattone, mattone e finanza, questo non è successo, il mercato immobiliare è cresciuto troppo e ora come in tutte le cose stiamo pagando dazio, la finanza ha sostenuto questa crescita abnorme del mercato immobiliare partendo dall'America e quindi sappiamo tutti di cosa parliamo e sappiamo tutti quali sono le cause di questo grande problema, oggi però possiamo anche analizzare con più tranquillità che questa crisi è in parte crisi sistemica ma in parte è anche un riassestamento e un riallineamento del mercato immobiliare a numeri sostenibili, le 550-600 mila compravendite forse sono il massimo che la nostra comunità in Italia può esprimere, quindi dagli 840-850 mila compravendite del 2006 diciamo che oggi stiamo ritornando a quello che è un mercato sostenibile, come se ne esce? Intanto se ne esce facendosi un bel esame di coscienza e ragionando sul fatto che è necessario reinvestire nella propria attività, è necessario credere in quello che si fa e comprendere che i tempi facili, i tempi dei guadagni facili sono finiti per tutti, per i banchieri, per i costruttori, per tutti quanti e bisogna scommettere su un nuovo modo di interpolarsi con quella che è la clientela, la filiera immobiliare, costruendo nuovi modelli anche di servizio soprattutto per le agenzie immobiliari. Guardate oggi le agenzie immobiliari sono nel punto in cui sono il punto di arrivo per coloro i quali che cercano affari. Noi oggi abbiamo un potere pazzesco perché sappiamo qual è il punto di arrivo o di caduta se volete di ogni singolo proprietario. Oggi in agenzia si trovano gli affari però è necessario che gli agenti immobiliari spiegano due cose ai propri clienti, che se acquistano un immobile oggi non lo fanno nel breve periodo, non stanno comprando un'azione, stanno facendo un investimento a medio e lungo periodo che ha capacità di tutelarli dall'inflazione, ha tante capacità questo investimento, anche di mantenere il risparmio della famiglia nel tempo. E in secondo luogo quello che chiedono oggi i clienti è di essere rassicurati, di sapere a cosa vanno incontro, quali sono le spese, quali sono le tassazioni, cioè ci vuole un surplus dell'agente immobiliare sotto l'aspetto consulenziale. Dobbiamo far capire al cliente cosa sta facendo, dobbiamo farlo anche quasi fossimo finanzieri, spiegandogli anche quali sono i termini economici del proprio investimento e della bontà dell'investimento. In questo modo i soldi che oggi sono ancora negli conti correnti degli italiani, perché si è impoverita l'economia, ma gli italiani hanno ancora soldi e risparmi. Allora ecco che con una riforma a cui accennava prima il Presidente Angeletti delle locazioni, la legge sulle locazioni, con delle agivolazioni che permettono l'acquisto anche delle seconde e terze case che non devono essere colpevolizzate, molto probabilmente l'investitore riuscirà ad acquistare a buon prezzo e sicuramente a valorizzare, a stoppare quelli che sono i risparmi di una vita in attesa di tempi migliori. Quindi l'investimento immobiliare per me oggi è l'unico luogo in cui io allocherei i miei risparmi e infatti gli allocherei. Valerio, sei anche tu moderatamente ottimista come Paolo sul come se ne esce? Allora sono sicuramente certo che se ne esca con alcuni aggiustamenti, ma occorre anche, al di là di quello che può essere il nostro compito di maggiori informazioni, maggiori servizi, ragionare con le banche verso un nuovo modo di finanziare le operazioni. tanti anni fa esisteva il credito fondiario che non resiste più, che consentiva di avere il denaro per le operazioni immobiliari da obbligazioni a lungo termine, oggi invece i mutui vengono finanziati con la raccolta a breve termine e quindi è chiaro che c'è una distonia che non è sostenibile nel momento in cui le banche non hanno liquidità per farlo. stiamo sicuramente anche proponendo ai privati, ma ancora di più alle imprese o ai costruttori, delle soluzioni alternative alla normale vendita, quindi il patto di futura vendita con pagamenti diversi, proprio per avvicinare quelle fasce di clientela che non trovano più riscontro nel ottenimento del mutuo in banca. Non dico che arriviamo al baratto, ma dobbiamo comunque trovare delle soluzioni alternative per aiutare gli acquirenti e i proprietari a individuare un loro punto di incontro. Poi c'è tutto un discorso da fare anche su quelle che sono le tipologie immobiliari che non è facile trovare perché le costruzioni sono venute su per delle esigenze, oramai le famiglie non sono più le famiglie numerose, non sono più le famiglie con due o tre figli, oramai c'è una media di 1,7 persone a famiglia e quindi le grandi case non trovano più un riscontro sul mercato e su questo bisogna ragionare, quindi in questo bisogna far rientrare anche gli operatori, i costruttori o gli adri per fare degli interventi sul prodotto esistente, anche se chiaramente come dicevo prima sono interventi da fare chirurgicamente perché sono un pezzo singolo in ogni fabbricato o alcuni pezzi all'interno di un quartiere, però sicuramente siccome l'italiano la proprietà della casa continua a essere sentita, continua a essere un bisogno, continua a essere un qualche cosa che fa parte della sua vita e della sua storia, tanto che vediamo che all'interno della stessa città le persone non vogliono spostarsi di quartiere, andiamo nei paesi anglosassi e si spostano da una città all'altra o da una nazione all'altra senza alcun gravame, quindi noi siamo molto radicati sul territorio e questo radicamento è un elemento di forza, è un elemento di concretezza che ci aiuterà a superare quello che è il momento particolarmente difficile che abbiamo adesso. Bene, siamo in chiusura, vi chiederei due specie di messaggi alla nazione, nel senso di rivolgervi ai vostri associati per un messaggio di fiducia. Comincerei con Paolo. Io ne lancio continuamente messaggi di fiducia e se non avessi fiducia non starei a ricoprire questo ruolo e oggi non sarei qui. I mercati sono fatti anche di fiducia e anche nella posizione interiore che ognuno di noi assume sulla possibilità di rinascita del settore e anche di questo paese, se permetti, perché la crisi è, come dicevamo prima, strutturale e ancora di più coinvolge tutta l'Europa. Quindi io sono convinto che usciremo da questo periodo più forti e rafforzati se però sapremo cogliere le nuove sfide che questo periodo ci pone e gettare le basi per rinnovare la nostra categoria anche operativamente, ognuno di noi all'interno delle proprie agenzie, quindi più cultura, più formazione e più vicinanza al cliente, più assistenza al cliente per poter domani avere agenzie che saranno multidisciplinari e che accoglieranno all'interno varie specialità per accogliere il cliente proprio nel complesso di una transizione immobiliare. Valerio, il tuo messaggio agli agenti FIM, ma direi a tutti gli agenti. A tutti gli agenti sicuramente, ma di fatto a tutti gli italiani. Noi abbiamo la fortuna di operare in un settore che è vitale, è vitale per l'Italia, è vitale per le singole famiglie e quindi ogni volta che noi parliamo di un immobile con qualcuno, sia esso venditore che sia esso acquirente, stiamo parlando di qualche cosa che per lui rappresenta gran parte del suo patrimonio, gran parte della sua vita o gran parte delle sue speranze. Ecco, noi dobbiamo aiutare a far sì che il clima oggi di pessimismo, di negativismo, di quasi apatia che sta avvolgendo l'italiano venga trasformato perché saremo in grado di riuscire a trovare nuove soluzioni contrattuali, nuovi servizi, nuove soluzioni di finanziamento per continuare a dare quella solidità alle famiglie italiane che la maggior parte degli stati ci invidia. Grazie, questo è il quarto incontro che facciamo quest'anno con i presidenti degli agenti immobiliari, è una promessa che io vi avevo fatto all'inizio dell'anno e che stiamo mantenendo. Spero che siate soddisfatti ma soprattutto che mi promettiate che anche l'anno prossimo continueremo con questi i nostri appuntamenti. Visto che sconfiggeremo la crisi sicuramente saremo qui in condizioni migliori. Va bene, grazie. Un sorriso ancora più grande. Grazie. 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 Grazie.